paradiso canto trentatresimo tu secolei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non di degno farsi tua fattura parafrasi tu secolei che rendesti nobile nella natura umana a tal punto che il suo fattore non di sdegno di farsi creatura cioè di farsi uomo commento ci troviamo nell'ultimo canto del paradiso dante sta per incontrare dio ma prima rivolge una preghiera a maria con l'aiuto di san bernardo per ottenere la sua mediazione in questi versi si celebra maria perché la creatura con cui dio si è riconciliato con l'uomo maria è un personaggio che può sembrare insignificante ma è lei che si unisce l'umano e il divino che la rende superiore proprio per l'umiltà in maria si realizza l'impossibile che va oltre la logica i primi tre versi sono primi di ossimori per esprimere l'unicità di maria e la sua capacità di conciliare la realtà umana a quella divina grazie grazie